Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Se vedrete questo video è perché il gameplay su ArcheAge delle 100 ore vi è piaciuto insomma e vi porto allora un altro video. Allora, che cosa voglio farvi vedere oggi? Beh, allora, prima di tutto vi voglio far vedere cosa succede dopo il livello 55. Dopodiché andremo a vedere rapidissimamente alcuni degli scorci più belli che io ho trovato qui su ArcheAge. A livello di città, insomma, il perché lo preferisco a tanti altri MMO, il perché mi sta prendendo, insomma, a tante cose. Allora, una volta che arrivate al livello 55, a livello 55 continuate comunque a fare esperienza fino ad arrivare al 100%, insomma, del livello stesso che avete raggiunto. Una volta al 100 non prosegue oltre. Perché? Perché dovete acquistare, premendo il tasto C, vedete che avete dei punti onore, dovete andare ad acquistare una pietra. La pietra è l'Honor Forged Medal. Una volta che prendete questa, la acquistate usando i punti onore e a quel punto potete andare a livellare. Col tasto K, dove avevamo visto le nostre abilità, insomma, le abilità che abbiamo, punto di combattimento, la vostra classe che è dovuta a un mix, a una combinazione tra varie classi, sotto classi, in base all'ordine che mettete, viene un'altra classe, una classe diversa. Avete poi qua, Ancestral, i livelli ancestrali, perché dopo aver, intanto sta passando un trasporto aereo molto bello da vedere, una volta che avete raggiunto il livello 55, sbloccate i livelli ancestrali, cioè ripartite dall'1 in poi, ma a livelli potenziati. E in questo caso andiamo ad usare la medaglia. E scopriamo quello che ci succede. Hai provato che tu sei pronto, hai provato di essere pronto. Ora vieni riempito di magia che ha difeso il mondo per centinaia di anni, un regalo dai dodici che chiamate eroe. Sì, perché in pratica c'è una storia mica male dietro, in pratica. Continua il nostro lavoro, ok? In pratica dagli dei, dai dodici esploratori. Quindi, in questo caso, siamo diventati livello Ancestrale 1. Questo cambia notevolmente il gameplay, ci porterà a livellare, a fare un sacco di esperienza per poter proseguire. Di esperienza da fare ce n'è oltre un milione, un milione e due, un milione e duecentotrentaquattro mila. Punti esperienza da fare per raggiungere il livello 2. Devo studiare bene, dovrò chiedere in gilda bene che cosa fare con questi livelli Ancestrali, però insomma, una delle principali, diciamo, peculiarità dopo aver fatto il livello Ancestrale, il primo, è fondamentale aumentare la potenza dell'armatura che abbiamo. Quindi l'equipment points, dobbiamo aumentare andando a potenziare pezzo per pezzo, farceli magari poi depotenziarli, spendere un sacco di soldi di gioco, ovviamente, perché nella versione Unchained di ArcheAge non si spendono soldi reali se non per oggetti cosmetici, e spendere, spendere, spendere anche i labor, quindi punti lavoro, per potenziare l'equipaggiamento e diventare competitivi. Competitivi per il PvP, ma se non vi interessa il PvP, per tutto quello che riguarda i mostri e le varie quest e i vari dungeon, perché i dungeon, non so se poi ve li avevo già fatto vedere, ce ne sono parecchi. Quindi, a questo punto, vi voglio far vedere, vabbè, la mia casa l'avete già vista, credo, lo sto lavorando molto sulla coltivazione, le profissi e le mie attività sono davvero basse, sto salendo parecchio come Construction, che ho fatto un livello di... perché ovviamente, craftando le tasse da pagare, ho fatto tanti punti, qua vedete che a ogni punto a 10.000 si livella, e si passa il livello dopo, però i rank sono veramente tanti, al momento io sono un novizio in due, poi, in realtà, poi aumentando, diminuite i labor richiesti per fare ogni azione. Calcolate che a ogni punto è un labor point, voi ne avete 5.000, quindi per arrivare a 10.000 dovete consumarli tutti due volte. Per rigenerarli ogni 5 minuti ne rigenerate 10, online e offline, e per quanto riguarda quello che rigenerate in 24 ore, se non giocate una giornata interna, ne rigenerate circa 2.800, quindi per riempirli vi servono quasi due giorni, a meno che non usiate delle pozione, buoncine o dei, tipo questa, che ne rigenera 500, io adesso la uso, vedete, passo a 4.000, le trovate facendo le varie, diciamo, quest dell'arch pass, quello che vi dicevo l'altra volta, dove, vedete qua, ne guadagnate 3, che vi danno più 3.000. Ovviamente, ogni volta durante l'arco delle 24 ore che la usate, ve ne rigenera prima 1.000, poi 975, 950 sempre meno, e una volta che ne abusate, la rigenerazione da alta passa a normale, e poi bassa, quindi in pratica quello che rigenerate in 5 minuti diventa sempre meno, quindi conviene usarle un paio di volte, magari per rigenerare 2.000, 2.000, 3.000 punti labor, e basta, poi vi conviene aspettare, però non tutte le azioni di questo gioco richiedono punti labor, quindi, insomma, potete andare a farvi i mostri, aiutare, perché è molto bello anche aiutare i nuovi, di Gilda, aiutare a uccidere i mostri, a fare livelli, infatti io sono stato aiutato moltissimo, dal 52 in poi, ad arrivare al 55, perché fare questa secondaria, ci avrei messo davvero una vita, le meccaniche sono tante, basterebbe vedere questo edificio, che è il community center, dove potete andare ad aiutare la regione, la regione è proprio il quartiere, scusate, il quartiere qua delle case, facendo dei lavori per loro, craftando degli aiuti, in pratica, e alla fine il quartiere guadagna un tot, che viene ripartito tra tutti i contribuenti, al momento io sono qua, sono quinto come contributi, in questo, quinto, sì, in tutti i contributi, della gente che abita qui, ora, voglio farvi godere un pochino, dell'ambientazione, del gioco, banalmente, ne ho viste di bellissime, ma ve ne voglio far vedere, una veramente, veramente interessante, andiamo a vederla. Grazie a tutti. Ed eccoci qui, in concluso questo giretto, insomma, in questa sala, dove qui, si possedere soltanto l'eroe, quello che viene eletto, se non sbaglio, ogni mese, all'interno della nazione, da quello che ho capito, ed è un player, che viene eletto, appunto, da altri giocatori, elettori, e, niente, qua, vedete, punti esclamativi viola, ci sono sempre molte quest giornaliere da fare, per guadagnare Gildastar, per poter sbloccare, nuovi progetti, nuove cose, la città, come vedete, è molto grande, è piena di cose da fare, è una cosa da esplorare, ad esempio, sono entrato in quella, in quella torre lì altissima, sono arrivato in cima, e in cima ho vinto comunque, dei punti esplorazione, perché ci sono andato in cima, sono andato sopra quella cattedrale lì, e ho vinto altri punti esplorazione, ci sono delle gondole volanti, fluttuanti, che ci porteranno in giro per la città, ne avessimo bisogno, e tra una città viva, poi la sera qua è piena di giocatori, e, ho fatto vedere solo una cosa, che alla fine, a livello di, diciamo, allora, a livello di immersione, è assolutamente top, ma, poi, voi direte, mi piace fare i mostri, mi piace fare i mostri, fare anche i mostri, però, non è piatto, per tutto quello che riguarda, il non fare i mostri, perché qua trovate, materiale da crafting, tavoli da lavoro, ci sono, ogni genere di negozio, e stiamo parlando solo di una città, perché qua vedete, poi c'è tutto il quartiere nobiliare, con le famiglie, più famose, potete andare a vedere, le loro ville, poi ci sono delle quest, che vi portano, anche lì, potete direttore, qua vedete, lo street artist, perché potete fare l'artista, quindi imparare a suonare uno strumento, potete anche dipingere, cioè ci sono proprio, delle, delle profissi, dedicate a quello, anche per, alla stampa, insomma, di cose da fare, ce ne sono tante, e, un'ultima, diciamo, valutazione che faccio del gioco, è questa, il gioco, vi chiede, tantissimo impegno, ovviamente, diciamo, rapportato col vostro, tempo libero, nel senso che, se siete il giocatore, a cui piace giocare, miglia di giochi diversi, ogni giorno, non fa per voi, perché bisogna, dedicarci, un pochino di tempo, ma, qualora, vedete ad esempio, questo, io ho fatto questo adesso, il gioco, vi dà anche, degli obiettivi, a, molto, lontano termine, e, vi chiedono, di fare, magari, tantissime missioni, giornaliere, per guadagnare, tantissimi punti, ma, quello che vi dà, dopo, a parte la soddisfazione, di aver raggiunto l'obiettivo, è un'ulteriore facilitazione, del gioco, ora, io qua, rispetto a prima, riesco a portare, sei cargo, più uno sulle spalle, quindi sette, guadagnare, una discreta quantità di soldi, prima avevo un carretto, che ne avevo solo due, sono obiettivi, anche la barca, che voglio fare, mi costerà tantissimi materiali, o anche la casa, mi costerà tantissimi materiali, ma, una volta fatta, mi rimarrà, e, mi faciliterà, il gioco, ora, con il momento in avanti, per quanto riguarda alcuni aspetti, e la cosa che io ho notato, che reputo molto interessante, è che, quando voi avete raggiunto i vostri obiettivi, ce ne sono altri ancora, cioè, non si finisce mai, non si è mai arrivati, c'è sempre qualcuno davanti a noi, c'è sempre qualcuno dietro a noi, ma c'è sempre, comunque, qualcosa da fare, da sbloccare, da raggiungere, gli obiettivi ce ne sono veramente un'infinità, la cosa che può tagliare le gambe, è il fatto che voi vedete, magari, all'asta, un qualcosa, che vi piacerebbe fare, perché si guadagna bene, lo guardate, e, e, vi deprime sapere, andate, vi informate, insomma, volete fare, non so, esempio, voi vedete che questo, l'ingotto qui, lo star di ingot, si vende a tantissimo, si vendono 29 gold l'uno, dite, ok, faccio soldi, guardate, io adesso ho, 367 gold, più 100 in banca, quindi, ne ho quasi 500, con lo, andiamo a vedere, lo star di ingot, per farlo star di ingot, vi servono, una maia di cose, materiali, ingot, di metallo, quindi, ogni ingot, sono 3 ore, quindi, dovete fare 24 ore, scavando in miniera, consumando l'arbor point, i copper, anche quelli, sono un po' più rari, i silver pure, quindi, dovete trovarne 3 e 3, più, l'opaque for polish, che vi chiede, 30 di questi onyx, 200 e 200, questi ve li coltivate, consumando, ovviamente, l'arbor point, e questi invece, allora, all'asta costano una bacca di soldi, perché per farne 30, voi dovete spendere, almeno 90 gold, poi ne fate 10, 90 gold, per 10, facete 200, 260 gold guadagnate, però vedete, è tutta una cosa, piuttosto lunga, e all'inizio, vi taglia le gambe, questa cosa di te, no, allora non ce la faccio, in realtà, non è così, nel senso che, una volta che avete il campo, ve lo siete sudato, vi siete sudati anche la casa, avete tutti i bonus, anche di rigenerazione, dei labor, vi fate le trade, guadagnate i soldi, comprate i materiali, se non volete, se invece volete ottimizzare i guadagni, vi coltivate le cose, che vi servono, e ve lo fate, nulla è facile nel gioco, ma, in base a quanto giocate, a quanto sbloccate, e avete sempre più da sbloccare, quindi cose da fare, ce ne sono veramente tante, l'unica cosa, su cui bisogna avere, magari idee chiare, è su che professione fare, perché solo pochissime, potete portare a livello massimo, i labor si rigenerano, ma è una sorta di, io lo vedo anche un po', come Animal Crossing, perché alla fine, ve lo godete, pian piano ogni giorno, non entrate, fate le vostre cose, ovvio, io ho già detto, chiaramente a me stesso, che non ho intenzione di fare, entrare e mettermi a fare, tre ore di daily quest, facendo un percorso, perché volendo, io potrei tipo iniziare da qui, andare, qui, qui far questo, guadagnare gilda, stare qui, andare qui, andare qui, poi trasportarmi qui, farne qua, e qua io ho già perso un'ora e mezza, a fare questo, e poi dovrei andare, anche sull'altro territorio, e farmi tutte queste zone rosse, contese, tutte, e otterrei una ventina, forse anche di più, 25, 30 gilda star, che sono una valuta importante, per lo store, per comprare, ogni genere di cosa, no, entro e faccio quello che faccio, cioè nel senso, vado e raccolgo i campi, tengo i materiali, alcuni li raffino, alcuni li mando ad altri componenti di gilda, insomma, che lavorano per me, collaboriamo, insieme tutti molto, molto tranquilli, voglio farmi una trade notturna, perché non so cosa fare, vado, me la faccio, voglio andare a tentare di potenziare l'equipaggiamento, vado, faccio i mostri, in una zona qua, ci sono delle zone molto belle, si fa qui, si fanno mostri, qua è una zona da livello 4 ancestrale a 6, quindi non è una zona per me, dovrei andare a farmi un'altra zona, più magari il mio livello, che ad esempio, potrebbe essere questa, o questa, o il Sol Marlboro, cioè, di cosa da fare, ce ne sono veramente tante, dovete solo averla mentre sgombra, da pensieri, insomma, di altri giochi, insomma, o comunque, alternarveli come volete, ora ragazzi, io chiudo qui, fatemi sapere che cosa ne pensate, come al solito, del gioco, so che tra di voi c'è chi è, si oppone, fermamente a questo gioco, non mi piace, graficamente fa schifo, graficamente carino, non è un capolavoro, sicuramente è carino, e non gli piace proprio il genere, non vuole, io concludo dicendo, io non voglio tirarmi, sono opinioni personali, quindi non voglio tirarmi l'odio di nessuno, io avevo detto a Crystal Cross Gaming, che non so se adesso mi guarda, gli avevo detto, però Varchage, che è molto bello, e lui stava giocando a War, che era il tempo fa, io preferisco tenermi l'originale, ok, è vero, l'originale, cioè, il primo è stato lui, tra virgolette il primo, più o meno, è doppiato in italiano, è sottotitolato in italiano, completo, bello è tutto, ma quello che dà questo gioco, secondo me, è un'altra cosa, ok, è coreano, si farma tanto, è vero, però le cose che puoi fare, carretto in Warcraft non c'è, la casa non c'è, il crafting, a quanto pare, serve solo ad alti livelli, solo per alcune cose, sono cose che ho provato, è perché ci ho giocato una maria di ore, io in Warcraft, però onestamente, qua posso livellare tranquillamente, anche senza uccidere un mostro, infatti gli ultimi livelli li ho fatti così, Craftando, ragazzi, io un saluto, un abbraccio, fatemi sapere, ovviamente senza insultare, tenendo un tono, diciamo, composto, nei commenti, e alla prossima, e ciao ciao!